Ciao ragazzi, oggi breve 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 intro perché ho già parlato troppo nel video allora il video che vedrete sarà formato all'inizio da un tutorial di questo trucco un trucco molto semplice e molto chiaro, comunque vi metterò dopo questa spezione delle foto per farvelo vedere meglio e poi dopo l'ospensione del tutorial troverete un tutorial sulla base viso allora perché? questo video diciamo che vuole essere una combo di richieste sono due richieste, tutte e due per il 6 luglio quindi vi devo anche spiegare perché oggi è il 5 scusate ma mi sono ricordata tardi come al solito e una richiesta mi chiedeva un trucco per un esame, non mi chiedo se era di maturità o l'orale di maturità oppure per un esame universitario comunque ho voluto fare un trucco semplice, sui toni del beige, del marrone, poi su tutti colori opachi solo un po' di luce sotto con un matitone dorato per dare l'effetto un po' più sveglio, occhio aperto mascara solo sopra, la base e liner la base viso è stata realizzata con fondente minerale perché la ragazza, l'altra richiesta era un trucco per un concerto, forse liga vuoi credo mi sa di sì e mi chiedeva un trucco con l'eyeliner e comunque semplice e una base viso con i prodotti minerali con un prodotto minerale ho fatto appunto la base con il fondente minerale della Lumière e secondo me il trucco occhi può essere benissimo, riutilizzabile volendo puoi anche solo fare la liga di eyeliner però comunque questa sfumatura che c'è all'interno è molto leggera, molto tranquilla quindi ecco, secondo me queste sono due idee facilmente realizzabili quindi niente ragazzi, io vi lascio le foto dal tutorial spero che vi piaccia, vi mando un bacio grande e al prossimo video, ciao ciao inizio a prendere tutto l'occhio nella mia base io uso sempre quella dell'essence della You Rock e la applico sia sopra che sotto e vado a sfumarla ok, prendo un colore opaco io prendo la prima palettina della H&M quella a quattro colori di questa è la Biscotti Dreams e prendo il primo colore, quello un veciolino opaco insomma e lo vado a prendere con un pennello grande d'ombretto io uso tipo questo, giusto qui lo prendo il colore e lo vado a mettere in tutta la palpebra mobile arrivando fino alla piega e intanto lo sfumo mentre lo applico adesso vado a prendere un colore della Kiko e vado a prendere un marrone opaco che è il numero 92 che è, oddio dove sei, questo colore qui questo marrone qui, leggermente opaco con dei piccoli riflessi dorati ma che neanche non si notano e vado a prenderlo con il mio pennello della H&M questo a penna ne prendo poco poco e lo vado a mettere nell'angolo esterno facendo una piccola V ma proprio piccola rimanendo piuttosto bassa perchè non voglio che sia un trucco troppo troppo vistoso quindi mi tengo proprio nella piega e poi con un pennello di sfumatura tipo questo, di solito vado a sfumare il colore vedete così sembra proprio una leggera ombreggiatura adesso sempre riprendo la mia palettina della H&M e vado a prendere quest'altro colore che è un taupe con dei glitterini che però sono molto chiari e comunque anche l'ombretto di per sé non è molto scrivente ne prendo un po' e lo vado a mettere in tutta la mia piega perchè non sarà un colore molto visibile ma cioè comunque darà quell'effetto di truccato ma non troppo e comunque ci definirà anche la nostra piega io ho detto riesco a trovare una posizione giusta per lo scoppecchio ok così per andare a di qui un po' più l'angolo esterno vado a prendere la mia palettina della Urock questa è la Rock Chicks Palette questa qui e vado a prendere il colore più scuro che è questo un marrone ne prendo un po' sempre con il pennellino a penna e lo vado a mettere proprio facendo dei movimenti così nell'angolo esterno e pulendo il pennello un attimino togliendo il prodotto nel cesto lo vado anche un po' a sfumare uso questo pennellino e non quello da sfumatura perchè così sarò più precisa nella sfumatura e il colore non andrà a perdere troppo di intensità adesso sempre da questa palettina vado a prendere il bianco che è un bianco bianco shimmer con qualsiasi bianco shimmer la vede va bene ne prendo un po' con il dito e lo vado a mettere qui sotto per illuminare e mentre lo metto cerco anche di sfumare un pochino il marroncino ne riprendo un po' e lo metto anche qui nell'angolo interno dell'occhio perchè era un punto luce non troppo evidente naturalmente così adesso vado a prendere un eyeliner marrone questo è il Carité Paris brown ink lo 0-2 lo 0-2 non si leggerà comunque è un marrone e lo vado a prendere e a mettere sto facendo una riga la faccio molto fina e leggermente non so se siete di qua leggermente allungata all'esterno questo mi piace molto come liner volendo potete usare anche quello dell'Essence il Metal Glam ve lo faccio vedere questo qui volendo se non avete questi qui va benissimo questo però ha una tenuta un po' più lunga allora io spero che questo passaggio si veda non arrivo fino all'interno dell'occhio ma rimango dove iniziano le mie ciglia e poi vado a fare una leggera puntina una piccolina puntina mi sono cercata un occhio così e poi sopra vado a prendere questo ombretto pigmento che è della Lumière che è il tiramisù non si leggerà mai non si leggerà mai è un tiramisù è il tiramisù quindi è un marrone aspettate ve lo faccio ve lo sguoccio sulla mano mi serve un pennello d'ombretto è un marrone con tanti tanti glitterini dorati molto bello lo vado a prendere sempre con lo stesso pennello con cui ho messo le liner e lo vado poco a poco a tamponare sulla riga per dargli un po' più di riflessini volendo se non avete un eyeliner marrone potete prendere un ombretto che avete bagnarlo e farci il vostro eyeliner quindi allora dicevo nella rima interna e nella parte sotto prendo questo matitone della bottega verde e lo vado a mettere appunto dentro e sotto allora dentro lo metto semplicemente come matitone e sotto aiutandomi con un pennellino de liner io uso questo della Kiko perché è quello che non uso mai ne prendo un po' e lo vado a mettere anche qui sotto non metto un matito e scuro all'interno perché magari con il caldo comunque con la girazione e tutto quanto tendranno magari un po' a sbavare la metachina invece darà un'aria più fresca all'occhio e però e poi comunque non andrà a creare un effetto troppo brutto se in me in caso si toglierà non ci notrà 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 neanche e la e si mascara io uso lo smokey eyes multi action della essence e lo metto solo sopra questo qui sono sporcato poi andiamo a pulire e poi passo anche con il false lashes della concentrate della della Kiko il top coat lo metto sempre sopra così spero che si veda l'effetto foco questo mascara che è veramente bello fissero i miei sopracciglia per avere un'aria ancora più scurata ok eccomi qui ho allontanato un po' lo zoom perché vi voglio far vedere una cosa adesso andremo a fare una base minerale insieme allora innanzitutto applico la mia crema già applicata che è quella scusate ve la prendo dietro che è la solita quella al propoli quella che sto usando ultimamente dell'erbolario applico la crema aspetto che si assorbi assorbi vabbè che insomma non sia appiccicosa poi a prendere il mio correttore uso il CR02 della della Limoni invece della Basic Beauty invece ho molto questo correttore ma se non ve lo consiglio se siete delle persone comunque grandi che iniziano ad avere un po' di rughetti sotto gli occhi o comunque la pelle particolarmente secca anche così non mi piace tanto perché ho notato che anche io che non ho tante lignette e qui non ho neanche troppi problemi di borse questo tende leggermente a evidenziare le righette che ci sono quindi ecco già a me che non ce le ho le evidenzia ho pensato pensate chi ce l'ha un po' di più ma che può fare quindi io ne vado a mettere proprio dei tocchi piccolini qui sotto e anche qui lo metto qui agli angoli del naso e sulle imperfezioni io uso questo sempre sulle imperfezioni perché mi ci trovo bene sinceramente ultimamente non sto avendo particolari problemi alla pelle forse anche perché ho cambiato un po' l'alimentazione quindi sta migliorando vado a sfumarla e solitamente per la parte sotto le occhiaie uso un pennello da sfumatura lo vado a prendere a sfumare un pochino perché comunque è molto morbido quindi si sfuma piuttosto bene se avete dei problemi di ombreggiatura troppo evidente qui mettetelo anche qui nell'angolo interno del naso lo sfumo anche qui vicino al appunto al naso anche con il dito può essere benissimo fatto il sfruttito solo che ci metto un po' di più invece col pennello è un po' più semplice vado anche sulle imperfezioni a sfumare insomma dove ho messo il prodotto sfumo poi dopo comunque ci passerà un po' col dito per far assorbire meglio il il prodotto quindi adesso vado con il mio ditino vado un po' a tamponare il prodotto in modo che non sia troppo evidente ok come ho detto no non l'ho detto si forse no vabbè userò questo campioncino che mi è stato mandato dalla Lumière questo è il mio medium neutral al cashmere è un fondotinta un po' vero e minerale insomma mi hanno mandato altre cosine e per se vi ci farò un trucco perché mi hanno mandato due colori bellissimi di ombretti e ve li devo far assolutamente far vedere perché sono veramente fantastici allora io lo applico con il pennellino di CNM questo qui volendo se non avete questo potete usare per esempio il pennellino da blush della Essence adesso perché questo è sporco da blush quindi non lo vado ad utilizzare oppure se non avete questo fondotinta e avete un anchicco vicino io vi consiglio anche il fondotinta questo qui compatto che è il Soft Focus Compact lo zero cioè io lo zero vabbè che è quello compatto in polvere è veramente fantastico questa fondotinta allora io prendo un po' di prodotto però non so dove mettermelo aspettate devo pensare a un modo dove perché mi devo mischiare un po' la polverina e non so dove mischiarla allora vabbè faremo piano piano allora metto un po' di prodotto sul tappino non è comodissimo così proprio ne metto poco alla volta devo comprare un tappino più grande ne vado a prendere un po' e lo vado poi a a stendere e a sfumare parto dall'interno e lo vado a sfumare verso l'esterno a e lo vado a cerco di lavorarlo bene in modo da farlo entrare bene nella si fonda bene con la pelle ok si avete una pelle che non è troppo grassa potete usare come blush un blush in crema che comunque tende a fissarsi parecchio come esempio qui ho il dream mousse blush 05 plum pure fantastic io però avendo una pelle grassa vado ad usare un semplicissimo blush e ne uso non uso un blush, uso questo duo della essence che è il 02 goodnight darling che è un misto di terra e blush quello sull'aranciato e lo vado a prendere con un pennellino da blush che sia però un po' più un po' più con le satole dure perché troppo non è molto scrivente e quindi mi serve un pennellino più duro mischio tutto insieme e lo vado a mettere qui perché comunque mi darà un'aria abbronzata ma comunque con quel tocco un po' più di aranciato molto estivo secondo me lo metto anche unidando solo la terra stavolta sulla parte qui delle delle temiche e anche ai lati un po' del naso e lo assumo comunque se è una terra molto chiara quindi non non si noterà io poi non sono brava con il contouring quindi figuratevi prendo la mia cipria oggi voglio usare questa qui della Pure Skin questa è la 01 Beige la prendo con il cabuchino coloro la rosa che vi ho fatto già vedere ne prendo un po' e la vado a passare su tutto il viso non sto più usando questa cipria è un peccato mi piace la quella allora sulle labbra allora per l'esame vi consiglio un burro cacao quindi optate per un bel burro cacao lucido comunque abbastanza idratante oppure semplicemente che sia bello lucido tipo io ho questo qui della del ricerame con allo kitty quello se riesco a aprirlo ve lo faccio a vedere quello trasparente semplice questo insomma questo che va benissimo non vi consiglio rossetti no così non vi dovete stare troppo a preoccupare cioè mentre vi passate non vi dovete vedere perché ce ne avete un po' sui denti ecco queste cose così messaggio scusate per il concerto allora per il concerto se volete essere ancora più curate vi consiglio una tinta per labbra cioè io adesso ho solo questa che è della Kiko che è la 10 che è quello rosso mettete comunque vi dura tutta la serata tranquillamente non vi sbava cioè anche se sudate non si scioglie e sopra ci mettete un po' di burro cacao proprio la secondo lo secondo step che c'è qui oppure potrei dire anche un rossetto però anche lì vi dovete stare a preoccupare quindi no o burro cacao anche voi o un po' di tinta per labbra che rimane lì e comunque siete sempre belle truccate noi andiamo a mettere solo un po' di burro cacao e io uso questo qui della della di CNM appunto e adesso non so lo va bene non me lo metto perché ho le mani sporchi di fondotinta quindi non mi va di toccarlo e e poi mi sono scusate il simatico ok e niente ragazzi questo era il tutorial c'era un po' di tutto in questo tutorial io spero vi piaccia vi mando un bacio grande e al prossimo video ciao ciao